Mi colpevolizzano anche involontariamente dicendomi, vedi mamma, se avevi smesso, è il seno del poi, però me l'hanno sempre detto mentre fumavo, non solo a malattia avvenuta. Ho un compagno col quale andiamo avanti da anni, vorrei avere più aiuto dal mio compagno, più empatia. Lui si pone che non si rende conto proprio della mia malattia. Nella famiglia diciamo io sono sola, le problematiche familiari ci sono state, anche il fumo era conseguenza di situazioni affettive che non funzionava e anche di mobbing sul lavoro e quindi il fumo era un sostituto che però mi ha danneggiato in pratica, anziché darmi una mano, mi ha dato la batosta. Grazie.